I vigili del fuoco stanno scavando sotto le macerie della palazzina crollata nel Casertano per recuperare Giuseppina Sgambato, 74 anni. La donna rimasta intrappolata sotto i detriti, ancora nessuna notizia del marito Mario, anche egli coinvolto nell'incidente avvenuto a San Felice, a Cancello. I soccorritori hanno sentito le urla e stanno lavorando per mettere l'anziana in salvo. I soccorritori hanno sentito le urla e stanno lavorando per mettere l'anziana in salvo.